Ciao ragazzi, da un po' di tempo esce a Napoli il radioapertore dell'Andia e adesso vado a provare questa nuova attrazione, ciao! Ligo, saluta! Ligo, saluta! E questo il mio bambino è un sippare! Come ci sono down, io sono sippare! Allora, ieri, a tutti sippare! Allora, molto bene, molto pronto ad essere un movimento super, Buon appetito ragazzi, noi saranno i miei! 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 MASSIMO BANI E GASSIMO BANI Molto bene così fantastico Bene ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, commentate e condividete Noi ci vediamo alla prossima, ciao